Da due stagioni a questa parte il leader indiscusso della difesa bianco-verde è un punto di riferimento per lo spogliatoio anche di fuori del campo, dove nei momenti più delicati ci ha messo sempre la faccia, dimostrando tutto il suo carisma e il suo carattere. Chiunque vorrebbe in squadra uno come Fabio Pisacane, sia per la personalità sia per la duttilità tattica, che ha dimostrato giocando nel biennio in bianco-verde in tutti i ruoli possibili e immaginabili. Centrale della difesa 3-4, terzino destro-sinistro, addirittura esterno di fascia nel 3-5-2 di Massimo Rastelli, una somma di punti di forza che lo rendono inevitabilmente oggetto del desiderio di tanti club. La dirigenza bianco-verde lo ritiene l'anima del progetto tecnico e sportivo, in primis il presidente Walter Taccone, che lo scorso 16 giugno a Otto Cian, nel corso di un intervento telefonico a 0825, lo aveva definito il giocatore più rappresentativo. Ma è chiaro che in caso di offerte dalla Serie A, o particolarmente vantaggiose sul piano economico, sarà necessaria quantomeno una riflessione sul da farsi. Diversi rumors di mercato relativi a Pisacane, legato ai lupi, sino al 2018. L'ultimo in ordine cronologico risale alla tarda serata di ieri, quando il portale specializzato gianlugadimarzio.com ha rilanciato l'interesse del Cagliari per il classe 1986 partenopeo. L'Avellino aspetta l'evolversi della situazione, resta alla finestra e continua a seguire Chiosa e Milanovic. Uno dei due potrebbe arrivare, in ogni caso, a prescindere da Pisacane. Intanto L'Avellino sarebbe vicino a completare la batteria di portieri, che ha registrato le uscite di Alfred Gomis, rientrato al Torino dopo la parentesi in prestito in Irpinia, e Andrea Bavena, per il quale non verrà esercitato l'opzione di rinnovo, con il classe 1994 ex lecce Tommaso Bianco. Nell'ultima stagione Bianco ha militato dalle fila del Delta Porto Tolle. Si avverebbe dunque ad essere chiuso il cerchio degli estremi difensori con il giovane numero uno che andrebbe a raggiungere Pierluigi Frattali e Daniel Offredi. Dovrebbe essere di conseguenza sfumata la possibilità di vedere in maglia bianco-verde il giovane rumeno Yonut Radu, di proprietà dell'Inter.